Sabato 4 gennaio a Piano di Coreglia nel centro commerciale Le Muse sulla strada provinciale si premierà la Befana più originale, alle 18 la premiazione e si attendono da tutta la valle vecchiette con caramelle, dolci per bambini buoni, cenere e carboni per tutti gli altri. Vi aspettiamo sabato 4 gennaio dalle 12 alle 21 a Piano di Coreglia.